Ciao ragazzi io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato all'energy drink. Ragazzi si ritorna con una energy drink molto particolare italiana ovvero la lemon soda energy activator questa volta è la versione zero quindi senza zucchero mi raccomando se vi siete persi la recensione dove recensisco quella normale quindi quella standard mi raccomando andate subito a vederla. Ok ragazzi eccoci qui con la nostra lemon zero ovviamente energy activator abbiamo il logo lemon soda energy activator zero proprio perché non ha zucchero si tratta quindi di una standard ma al gusto di limone senza zucchero mi piace ovviamente il colore i motivi il fondo nero con questi poligoni con questi triangoli insomma abbiamo tutti questi motivi grigi bianchi gialli insomma sono veramente carini e secondo me azzeccati sul retro abbiamo scritto ovviamente lemon soda energy activator zero la descrizione ribadendo il fatto che si tratta di un energy drink italiana acqua dalle fonti di crodo quindi italiana e limoni siciliani al 100% ovviamente ovviamente le vitamine del gruppo B caratteristiche dell'energy drink valori nutrizionali insomma molta molta roba qua vediamo ribaditi concetti elevato tenore di caffeino che è non raccomandato per i bambini durante la gravidanza e l'allattamento ok quindi una standard zero ovviamente direi di provarla ragazzi è arrivato il momento di aprire questa lemon zero è una delle tre bevande presenti in commercio ne esiste un'altra viola i tropical fruits che spero di trovare il prima possibile questa è la versione zero una sorta di limonata il colore è quello di una limonata ed è tale e quale alla versione standard almeno per colore speriamo anche di sapore ragazzi siccome ho già provato la standard e questa è la versione zero quello che andrò a valutare non sarà tanto il sapore ma bensì quanto le due bevande standard e zero sugar siano simili sì sono simili cioè per una volta si può dire che la versione standard è come la sugar free siamo lì cioè c'è una leggera sottigliezza dovuta al fatto che io la senta più aspra meno dolce però è proprio poco è lieve lieve la differenza quindi secondo me è centrata a pieno quindi siamo al top davvero davvero perfetta secondo me proprio perché sugar free e standard si equivalgono quindi garantiscono al consumatore che non vuole abusare di zuccheri una bevanda che tale e quale a quella standard buona come sempre intensa decisa a livello di sapore proprio il limone si sente che è intenso forte aspra e anche leggermente dolciastra buon prodotto di qualità limonata energy drink a parer mio molto originale perché non se ne sono mai viste in Italia e che dire come voto finale direi di darglielo sempre un otto e mezzo dato che comunque ci sta il sapore è quello e lo equivalgo a quello della standard proprio perché alla standard ricordo gli diedi otto e mezzo quindi anche a questa di otto e mezzo dato che si equivalgono invece per quanto riguarda un confronto proprio per quanto riguarda la bevanda stessa diciamo che sostanzialmente sono due bevande uguali penso che l'unica che si differisce da tutta la serie sia quella tropical fruits che spero di provare il prima possibile quindi ragazzi io concludo qui questa recensione spero che vi sia piaciuta come sempre lasciate un like commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV ciao